Buonasera Silvia Marcolin, ben ritrovata per la presentazione della gara Trento Calcio Femminile-Tavagnaco in programma domenica alle 15 allo stadio Biamasco. Si era detto che serviva una scintilla per riaccendere questo campionato, la scintilla è arrivata domenica scorsa contro il Chievo. Vi chiedo subito come avete lavorato in settimana e come sta la squadra? La squadra si è allenata bene durante la settimana, le ragazze finalmente sono venute a fare allenamento con il sorriso, cosa che mancava da molto molto tempo. Stanno tutte bene, fisicamente stanno bene, mentalmente stanno bene, hanno liberato un po' la testa, ma continuiamo ad allenarci come sempre. Ecco, al Biamasco arriva il Tavagnaco, un altro importante scontro salvezza contro una diretta concorrente, le chiedo che gara sarà? Una gara difficile, difficilissima, come lo è stata domenica scorsa e come saranno tutte le altre gare. Sarà una gara da giocare come sempre, al 100%, le ragazze non devono mollare, devono essere convinte delle loro capacità, devono avere il coraggio di osare, di fare e di mettere in campo tutto quello che stiamo trasmettendo loro durante gli allenamenti. Lo si è detto e ridetto, non bisogna guardare né al calendario né alla classifica, però risulta fisiologico farlo alla luce degli incroci che si dipaneranno nella prossima giornata, potrebbe rivelarsi effettivamente decisiva alla luce della classifica, perché il rischio è quello di riuscire ad accorciare con un risultato positivo ulteriormente la classifica in zona salvezza. Guarda, io la classifica non la guardo, me lo dici tu. So solo che le ragazze ce la stanno mettendo tutta, mi fido delle ragazze di come stanno facendo e dobbiamo continuare ad andare e fare il nostro percorso che abbiamo iniziato. Sarà difficile, ti ripeto, ma una partita dopo l'altra. Adesso pensiamo a Tania, loro hanno vinto, come dicevi prima, hanno fatto una bella vittoria e per questo sarà difficile, dovremmo essere al 100%. Appunto una gara fondamentale in cui potrete contare anche sul supporto dello stadio Bria Masco con i vostri tifosi. Sì, spero che venga molta gente allo stadio, più gente viene meglio è, così ci aiuta a portare a casa una prestazione, poi il risultato sarà proprio un bisogno di più gente possibile allo stadio. Un'ultima battuta, dal punto di vista dell'organico, come sta la squadra? Le ragazze sono tutte a disposizione, qualche acciacco? Le ragazze sono tutte a disposizione e come sempre mi mettono sempre in difficoltà perché tutte e 26 si sono allenate al 100% e io mi trovo sempre in difficoltà a fare le convocazioni. Sono brave e purtroppo devo lasciarne qualcuna in tribuna.